Una notizia bomba ha scosso Milano questa sera. Lasciando i tifosi milanisti in uno stato di attesa sul futuro di Raffaeleao. Siamo tornati con un altro aggiornamento bomba su uno dei giocatori più importanti della nostra squadra. Prima di addentrarci in questo elettrizzante argomento, lo sapete già, vero? Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna novità. Quello che abbiamo oggi susciterà le emozioni di tutti i tifosi del Milan. C'è in gioco qualcosa di grosso e quello che succederà potrebbe cambiare il futuro di Leao e della squadra stessa. Nelle ultime settimane, il futuro di Raffaeleao al Milan è stato oggetto di intense discussioni. Con il giocatore in panchina per la terza volta consecutiva e le voci di un interesse crescente da parte del Barcellona. Con il Milan che stasera affronterà il Monza, si fa strada l'ipotesi di un trasferimento di Leao al Camp Nou. Ma un'operazione del genere è davvero fattibile per il club catalano? Secondo asterisco calciomercato.com asterisco, nonostante l'interesse del Barcellona. Il trasferimento di Leao sarebbe estremamente costoso. La clausola rescissoria del numero 10 è fissata a 175 milioni di euro e, sebbene il valore di mercato sia inferiore, i costi sarebbero comunque estremamente elevati per un club in una situazione finanziaria delicata. Oltre all'elevato stipendio di Leao, stimato in 7 milioni di euro netti, che al Barcellona costerebbero 14 milioni di euro lordi, la situazione di ristrutturazione del Camp Nou richiede una meticolosa pianificazione finanziaria, che rende difficile aggiungere un altro grande nome al monte stipendi. Il Barcellona è già impegnato su giocatori di grande nome e la scorsa estate ha dato priorità a Nico Williams, che ha una clausola rescissoria di 58 milioni di euro e uno stipendio più accessibile. A meno che il Barcellona non apporti modifiche finanziarie significative, un trasferimento di Leao rimane improbabile. Ora, tifosi, vogliamo sapere cosa ne pensate? Il Milan dovrebbe lottare per tenere Leao. Anche se sta attraversando un momento difficile nel club, il Barcellona può davvero permettersi di acquistare l'ala rossonera? Lasciate un commento qui sotto. Condividete il video con altri tifosi del Milan e restate sintonizzati sul canale per ulteriori aggiornamenti sul futuro di Raffaeleao e sui movimenti del mercato dei trasferimenti.